Ciao lettori di Mixer Planet, sono Andrea Tanasio, bar manager del Buxer Bar e già titolare del Fresco Cocktail Shop di Como, che tra poco compierà i 10 anni. Questa sera abbiamo fatto una serata di food pairing con i piatti di Davide Maci del Marketplace e delle mie ricette dei drink a base di Flor de Cagna, famoso room del Nicaragua. Questo è il nostro welcome drink, Flor de Cagna 7 e Ginger Ale Fever 3, in versione tascabile. Primo food pairing, un classico o un forte richiamo al Bloody Mary, fra in versione room con Flor de Cagna bianco, estratto di pomodorini pacchino, succo di limoni che raccolgo a careno, abbiamo una stupenda piantagione vicino a Bellagio dove raccogliamo la nostra frutta, classica speziatura con l'aggiunta di cumino, servito con una bordatura di peperoni rossi disidratati, abbinamento con un carpaccio di manzo, carciofola giudea e animelle fritte. Secondo food pairing della serata, registrazione di un classico daichieri, invece di un cubano con Flor de Cagna 5, lime e limone, quindi doppia parte citrica e zucchero di canna bianco, impreziosito da oli essenziali di pepe nero di Claudio Gagliaschi, abbinato a una ricciola con asparagi, aguacate e biscay di mandorla, abbinamento drink citrico e pesce super classico, soprattutto nella cultura caraibica. In questo food pairing è racchiuso tutto il mio progetto l'Italia non bicchiere, ho visitato tutte le 20 regioni italiane e per ogni regione ho selezionato i prodotti principe da poter valorizzare in miscelazione. In questo food pairing troviamo una sorta di latte di mandorla, faccio un blend tra mandorle pelate, kombucha e amare, Flor de Cagna 12, zucchero alla vaniglia e lime e limone, mel dolce, mandorla, miringa, bergamotto calabrese, tutta l'Italia racchiusa in un bicchiere.